Si avvicina la data per l'inizio dei lavori al porto di Pescara, insomma quella del 14 novembre sarà una data decisiva in questo senso, l'auspicio è che possano iniziare a breve i lavori? Come si sta lavorando intorno al porto di Pescara? Va sottolineato che c'è un'attività così veloce che di solito nella pubblica amministrazione se ne vedono pochi. Forse molto probabilmente c'è anche la grande opportunità di avere a ridosso del porto di Pescara la società che sarebbe l'autorità portuale, che la regione insieme all'autorità portuale stanno portando avanti questa rivoluzione strutturale di tutto il porto, tutta l'area portuale. Ho citato il presidente Sospiri, citando anche il sindaco di Pescara perché sono presenti e a ogni mio suggerimento oppure una mia sollecitazione c'è subito il pronto intervento dell'Arap e ieri mattina abbiamo avuto la nota dall'Arap che ci ha comunicato che il 14 novembre ci sarà l'apertura delle buste e ci sarà sapremo la ditta giudicatrice per potenziare i duomoli guardiani che entriamo nell'inizio del nuovo porto a Pescara. Si parlerà, inizieremo già a programmare. Questi lavori poi che cosa mettono in piedi? Mettere in piedi è entusiasmo anche dalle società di navigazione perché le società di navigazione incominciano ad avere fiducia nella città di Pescara e la programmazione. Guardate che quando si fa una programmazione per le navi e per il trasporto via mare non è che si fa oggi per domani ma si prepara un anno prima quindi l'anno prossimo sicuramente avremo il catamarano che collegherà Pescara alla Croazia. Nel frattempo già ci sono gli interessi da parte della società di navigazione per incominciare a pensare come per dire che qui a Pescara si sta facendo sul serio. E poi la bellezza di dare a Pescara, a tutti i cittadini, ai pescarensi, di passeggiare sul nuovo molo che ti parte dalla Madonnina fino ad arrivare alla terrazza della Dica Forania. Stiamo parlando di un percorso di circa un miglio e quindi già se uno va al mare vede quante persone adesso si avvicinano sempre di più al molo di Pescara.